Direi che sono due giornate assolutamente riuscite, il calibro dei relatori d'altronde non poteva lasciarci dubbio sul fatto che sarebbero stati due giorni molto intensi, due giorni di idee, di sollecitazioni, di proposte, di riforma e di revisione del sistema processuale, del sistema penale, una riconduzione dei sistemi al giusto processo per quanto riguarda l'aspetto più squisitamente processuale, alla finalità rieducativa, un richiamo alla finalità rieducativa della pena, all'esclusione del carcere come unica sanzione possibile. Sono ancora in corso le tavole rotonde sulle misure di prevenzione, la tavola rotonda sulla prescrizione, ma anche da queste non possiamo che aspettarci assolutamente proposte, soluzioni e sollecitazioni di rilievo. Naturalmente come ferrarese non posso che essere contenta di questo evento, di come si sono svolte queste due giornate e ringraziamo tutti per la partecipazione, per la calorosa partecipazione. Grazie. 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 Grazie.